. Linkin Park Kester Bennington morto, tour annullato, impennata nelle vendite streaming. . A renderlo noto è Live Nation, organizzatore degli eventi in giro per il mondo, siamo incredibilmente dispiaciuti per la notizia della morte di Kester Bennington. . Il Oni Moreling North American Tour dei Linkin Park è stato cancellato e i rimborsi saranno possibili nei punti vendita d'acquisto. Il nostro cordoglio va a tutti coloro che ne sono stati colpiti. . Solo qualche settimana fa, in occasione degli Days Festival 2017 a Monza, i Linkin Park sono stati protagonisti in Italia incantando i fan che adesso non riescono a credere che una storia lunga due decenni sia finita così, improvvisamente. . 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